In Abruzzo ancora si parla di quale sia il candidato, la situazione è un po' delicata perché ci sono dei problemi di coalizione. Oggi ci si aspettava che Gianni Chiodi fosse decretato candidato, dicono bisogna aspettare domani, perché? La Forza Italia ha indicato il suo candidato, abbiamo un confronto con gli altri partiti, domani a Roma ci sarà un incontro e la Commissione che si occupa di questo, presieduta dal senatore Matteoli, e ci auguriamo che si possa raggiungere rapidamente questo risultato. Perché questa attesa per i tavoli romani, per la coalizione? C'è la possibilità che il nuovo centrodestra abbia le primarie come richiesto? No, noi dobbiamo raggiungere una compattezza di coalizione con il metodo della scelta e su questo mi auguro che ci possa essere una convergenza. Le primarie le abbiamo escluse e quindi non penso che sia questo un tema all'ordine del giorno.